A segnare l'inizio della settimana santa, che si concluderà con la Pasqua della Resurrezione, è la Domenica delle Palme, giornata di festa che ricorda l'ultimo ingresso di Gesù a Gerusalemme per la celebrazione della Pasqua ebraica, avvenuto pochi giorni prima della sua morte. Secondo i Vangeli, una folla festante accolse l'entrata triunfale del Messia agitando rami di palma ed acclamando Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Proprio per onorare tale ricordo, prima delle celebrazioni eucaristiche vengono benedetti i rametti di ulivo e palme intrecciate. L'ulivo più semplice da reperire nella nostra terra rispetto alle palme rappresenta Cristo stesso, che con il suo sacrificio diventa strumento di riconciliazione e di pace per l'umanità. A Nicosia, oltre alle cerimonie solenni in cattedrale in presenza del Monsignor Giuseppe Schillaci, Vescovo della Diocesi di Nicosia, ci sono state molte altre cerimonie, Domenica 24. Ad esempio, i fedeli della comunità del Santissimo Salvatore di San Paolo e di San Francesco si sono radunati davanti alla chiesa di San Paolo e si sono recati in corteosi nei piedi dell'ospedale Basilotta, dove si sono posizionati sulle scalinate del nostro comio. Qui, dopo la lettura di brani evangelici, Padre Santo Basilotta ha benedetto i rametti di ulivo e di palma. In rispettoso silenzio, rotto solo da alcune preghiere, i fedeli in processione sono poi tornati nella chiesa di San Paolo, dove è stata celebrata la Santa Messa. Dinanzi alla Basilica di Santa Maria Maggiori, in presenza dei giovani che quest'anno riceveranno la Santa Cresima, sia della comunità di Santa Maria Maggiore che della comunità di fedeli di San Michele, durante la benedizione dei rametti di ulivo e di palma a cura di Padre Filadelfio Scandurra, è stata presente anche la rappresentazione del Cristo, che umilmente giunge a Gerusalemme cavalcando un misero asinello. La condivisione dei momenti liturgici, come la Domenica delle Palme, accompagnati da simboli importanti come i rami di ulivo e di palma, assuma un significato profondo per la comunità dei fedeli. Questi simboli non solo richiamano alla memoria gli eventi salienti della fede cristiana, ma sottolinano anche valori fondamentali, come la pace, la riconciliazione e la speranza. La partecipazione attiva alla liturgia, l'accompagnamento in processione e la ricezione delle benedizioni rappresentano momenti di unione e di comunione tra i credenti, rafforzando il legame spirituale e sociale all'interno della comunità. Queste esperienze collettive offrono l'opportunità di riflettere sul significato più profondo della fede e di rinnovare l'impegno verso gli insegnamenti evangelici di amore, compassione e solidarietà. In un mondo spesso segnato da divisioni e conflitti, la condivisione di questi momenti liturgici diventa un'occasione preziosa per riaffermare l'importanza della fraternità, dell'armonia e della condivisione, ispirando i fedeli a vivere secondo i valori evangelici nel quotidiano e a contribuire alla costruzione di una società più giusta e pacifica.